Non sapevo rimanete nella scelta posizione dopo che avete zappato la stavolta dopo cambiamo comunque sia stacchiato Marco, Simone, l'altra cassa se no, l'altra la cassa la cassa la cassa la cassa la cassa non ci si non ci si si non ci si si Grazie. 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 Quattro. grazie 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 bravo 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 i giri si diverte con le gambe oh che spesso ragazzi bravo 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 troppo corto quando si fanno la scuola si fanno il suo bravo 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 la scuola si l'ho già visto bravo bravo ma Manu, le gambe sono la terza, attacca il pallone. Bravissimo Lorenzo! Voglio dire così che c'è emozione. Stavo dicendo, sono senza socia con il giurlano. Bisogna trovare... Sono anche qua. Se no, Lorenzo, con una parrucca, no? Eh, scusami, le furla con una parrucca, no? Ehi! 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 La gamba Manu! Ma se io gli metto a fare i primi mani del terrore, mette la strada. Ah, che bella! Pure un Keller! Il mio ultimo strada! Canno, mette alto! Ah, anche lui! Adesso non gli attivano. Ti vedo in forma, Lollo! Ti vedo in forma, Lollo! Ti sento volte... No, davvero, eh! Eh! Fate un giro senza l'aria! 8 e 18, un cronometro. 0 a 0. No, dal lì! no! 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 Ecco Ecco Prima 9 9 Buono Hai vinto Non mi vieta Mi vieta stavate la testa E la parte 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 Il 19 aprile Si torna in campo Oddio Due giorni dopo Pasquetta Così sono al vostro livello Capito Eh lo so Perché deve arrivare un po' prima Comunque In questo momento preciso nella resistenza Ti sto battendo Perché ho un'amica Qua E un arconcio Più una Ma come va? Oh Come va il ginocchio? Ale Ale Come va il ginocchio? Eh il ginocchio Come va? Ma che hai? Eh l'ho sforzato tantissimo Durante il B3 Si ma cosa Il menisco Che cosa? E qui mi si blocca E appena ci faccio peso E si blocca Però il problema più grande Eh quello è brutto E' venuto l'idea di assistenza Quello è brutto Cioè quello Quello No E' venuto l'idea di assistenza E il come E questo? Ero Questo è tutto Ero 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 Ero